attenzione alla rocchettaria di rigore la gioca dentro l'avevamo detto sono andati vicini ora l'hanno trovato vantaggio del ladispo ci vada ma la resta lì e poi entra in porta con una carambola solo così poi la gioca dentro come può la mani grasso eccolo il 3 a 0 ed eccolo il don Dylan che chiude qui il ladispo ancora la rocca l'avevamo detto doppietta personale per il 10 e 4 a 0 ok ora ora di rigore 2 velocissimi 5 a 0 della carità di il don di rigore buca l'intervento E' felice E' felice Si chiama questa palla in orizzontale La riuscita è la palla dentro Bellissima La palla tagliata dentro Nel 8.0 dell'Accademia di Dagnospolini Come stavo a dare segnali